L'organizzazione benefica dei veterani feriti Help for Heroes non guiderà più il Team UK agli Invictus Games dopo aver allenato e selezionato la squadra da quando il Principe Harry ha lanciato l'evento nel 2014. Il Ministero della Difesa ha spogliato la carità delle sue responsabilità e ha affermato che, andando avanti, la Royal British Legion assumerà la guida del Team UK all'evento dei veterani feriti. Il governo ha affermato che la decisione è stata presa perché la Royal British Legion, di cui la regina è mecenate, potrebbe fornire più personale, finanziamenti sicuri e un impegno a supportare la squadra in futuro. L'evento è stato lanciato dal Principe Harry nel 2014 dopo essere stato ispirato da un evento sportivo simile negli Stati Uniti l'anno prima. Non ha commentato pubblicamente la notizia. In una dichiarazione rilasciata oggi, Help for Heroes ha affermato di voler sottolineare che la decisione era fuori dalle loro mani. L'Isskit, direttore dei servizi di Help for Heroes ha aggiunto, Help for Heroes è incredibilmente orgogliosa di aver addestrato, supportato e fornito il Team UK negli ultimi cinque giochi Invictus. Tuttavia, a seguito di ampie discussioni, il mod ha deciso che la Royal British Legion guiderà la consegna end-to-end del Team UK agli Invictus Games per i prossimi cinque anni e sarà anche il principale finanziatore del programma. Purtroppo, quindi, non saremo più coinvolti direttamente in Invictus Team UK.Vogliamo sottolineare che questa non è stata una decisione che abbiamo preso noi stessi. Sappiamo che i giochi continuano a svolgere un ruolo unico nel far luce sulle capacità dei veterani feriti. Il mod ha preso in considerazione le proposte della partnership Invictus UK e ha scelto questa strada andando avanti. Il nostro obiettivo ora è aiutare più persone in tutto il Regno Unito, all'interno delle loro comunità, come parti del mantenimento della nostra promessa di essere qui per i veterani feriti finché avranno bisogno di noi. L'ente di beneficenza ha detto che avrebbe continuato a svolgere il suo lavoro, sostenendo i veterani feriti e il personale. Ha aggiunto, naturalmente, continueremo a fare il tifo per il Team UK e non vediamo l'ora di vedere ciò che gli Invictus Games ottengono in futuro. Punto I rapporti dell'Express suggeriscono che l'ente di beneficenza avrebbe voluto ridurre la sua potenziale responsabilità in caso di carenza di fondi, ma aveva insistito sul fatto di voler continuare a lavorare con il Team UK. Punto Gli Invictus Games sono un evento multi-sport, aperto a tutto il personale e ai veterani feriti, feriti e malati, lanciato dal principe Harry nel 2014. Il duca di Sussex, patron della Invictus Games Foundation, ha avuto l'idea dopo aver assistito all'impatto che lo sport ha avuto su soldati feriti ai Warrior Games negli Stati Uniti. Il 37enne non ha parlato pubblicamente della cessazione del coinvolgimento di Help for Heroes. Punto prima dell'annuncio, Help for Heroes era stato responsabile dell'allenamento di 59 concorrenti che erano stati selezionati per rappresentare il Team UK sin dall'inizio dei giochi. Ciò ha comportato l'organizzazione di campi di addestramento e il supporto degli atleti prima e durante gli eventi. Il Ministero della Difesa ha insistito sul fatto che la Royal British Legion fornisse un futuro più sicuro per la partecipazione del Team UK ai giochi. Un portavoce ha dichiarato, la Royal British Legion è stata in grado di offrire finanziamenti sicuri, più personale per supportare il Team e un impegno a sostenere il Team UK in futuro. Abbiamo quindi ritenuto che questa sarebbe stata la scelta migliore per il Team UK. La nostra priorità è sempre garantire che il Team UK, il nostro personale di servizio ferito, ferito e malato e i veterani ottengano la migliore esperienza. Rimaniamo enormemente grati per tutto il lavoro svolto da Help4Heroes per portare il Team UK agli Invictus Games e continuare a lavorare con loro per supportare la comunità delle Forze Armate. Resta inteso che la decisione è stata presa dopo la scadenza di un accordo di partnership esistente. Punto Nel frattempo, la Invictus Foundation ha affermato che non faceva parte della decisione e continuerà a lavorare con l'ente di beneficenza. Un portavoce ha detto a Mail Online, questa è stata una decisione presa dal Ministero della Difesa del Regno Unito a seguito delle proposte per la struttura del Team che va avanti, e non è una questione per la Invictus Games Foundation. In tutte le nazioni partecipanti, collaboriamo con molte organizzazioni militari e enti di beneficenza per supportare il personale di servizio internazionale ferito, ferito e malato e i veterani, compresi i nostri programmi al di là dei giochi, e continueremo a farlo con Help4Heroes. La RBL ha confermato che guiderà il Team UK alle partite del prossimo anno in una dichiarazione sul suo sito web. La dichiarazione diceva, lavorando in collaborazione con il Ministero della Difesa, RBL consegnerà il Team UK agli Invictus Games nel 2023 a Dusseldorf e nel 2025 a Whistler e Vancouver. Utilizzeremo le nostre strutture presso il Battle Back Center per supportare i candidati e i partecipanti del Team UK, nonché i loro amici e familiari, durante il processo dei giochi.